Ciao ragazzi, visto che eravate curiosi delle mie vicissitudini con il lievito, vi voglio dare un aggiornamento. Ora mi trovo a dover fare il rinfresco, è il terzo, eccolo qui, come potete vedere è bello reattivo, ci sono tante bolle, vedete? E si è raddoppiato anche di un terzo, sì sì, è bello alto, ovviamente in questa fase non è utilizzabile, non è definibile lievito, e inoltre ci sono ancora i lieviti cattivi, c'è ancora la battaglia per la soppremazia, ma piano piano vinceranno i lieviti buoni e quelli cattivi moriranno. Ora vado a fare il rinfresco, volevo solo darvi un aggiornamento, vi ricordo, io attualmente sto usando 40 grammi di composto, dopo che avrò tolto la parte superiore, scavando tipo il gelato, ve lo ricordo, così è più semplice da ricordare, poi 40 grammi di farina e 40 millilitri di acqua. Al prossimo aggiornamento, ciao!